Per aver incarnato dal principio un modello di attrice di respiro europeo, per il talento dimostrato nell'affrontare ruoli complessi e forti, per la sperimentazione di diverse e varie forme artistiche, dalla poesia alla filosofia all'arte antica, con un approccio contemporaneo, per essere stata testimonia non solo di impegno ma anche portatrice di bellezza, per vivere il cinema come un'arte a 360 gradi convinta che la profondità possa fare la differenza e semplificare le cose difficili. Per la sua interpretazione per il film Ri nelle sale fra pochi giorni, Ivan Olgiati e Antonello Faretta consegnano il premio speciale come migliore attrice 2018, l'abbiamo capito, Angelica Cavallari. Complimenti, grazie e benvenuta. Grazie, buonasera a tutti, sono ovviamente commossa e assolutamente onorata di ricevere questo premio, onorata di aver anche sentito la motivazione veramente molto complessa e grazie mille. Ringrazio Mario Perchiazzi per il suo impegno, per la sua profondità, sono molto contenta di essere qui circondata da quelli che sono i professionisti del cinema italiano. Il cinema per concludere è un lavoro di squadra e questo evento lo dimostra con tutte queste eccellenze, quindi vi ringrazio. Grazie a te, grazie.